Ora più che mai, il Famila Vuberschio è affamato! Domenica 30 ottobre, Famila Vuberschio vs Club Atletico Faenza. La grinta, il cuore, la passione. Non resistere, la tua squadra ti sta chiamando! Domenica 30 ottobre, Domenica 30 ottobre, Dalle 18, Famila Vuberschio vs Club Atletico Faenza. Lo spettacolo sta per cominciare!